Le condizioni delle principali strade di Mestre continuano a peggiorare di giorno in giorno e le buche sul monto stradale aumentano in continuazione. L'inverno e le incessanti piogge di questi giorni non hanno di certo aiutato l'asfalto già disastrato delle strade della città, che sono ridotte da un culo a brodo. La colpa non è da addossare solamente alle condizioni climatiche di questo ultimo periodo, ma alla poca manutenzione da parte dell'amministrazione comunale e alla poca attenzione con cui erano stati eseguiti i lavori di asfaltatura in precedenza. Ma il Comune, almeno in questi ultimi giorni, sembra voler correre ripari, mettendo mano ai fondi delle casse municipali, che tra l'altro prevedono la cifra di quasi 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della città. Vista la disastrosa situazione in cui si trovano le vie di Mestre, quindi, l'amministrazione ha deciso di anticipare i lavori di asfaltatura già previsti a partire da giugno, chiedendo alle ditte affaltatrici di intervenire quanto prima. Ma le strade sono ridotte talmente male che non basterà una semplice colata di asfalto per poter rimediare alla situazione. Fino ad allora, però, le vie resteranno nelle condizioni in cui si trovano adesso e sarà ai singoli cittadini cercare di non rompersi le ossa sui marciapiedi dissestati o guidare come un pilota di Formula 1 per evitare le voragini sul manto stradale.